Essere riusciti nel nostro piccolo a darvi tranquillità, speranza, conforto, supporto, mettendo sempre il nostro cuore in tutto ciò che facciamo. Le difficoltà come in ogni lavoro non mancano, continui ripensamenti ci hanno assalite durante tutto l'arco dell'anno. Sulla didattica, sulle metodologie utilizzate, pensieri continui, chissà se stiamo procedendo bene. Grazie.